...indici del territorio, gli assessori, quindi ringrazio per la loro presenza. Fa piacere veramente essere qua a condividere questo momento importante. Io devo fare dei complimenti e dei ringraziamenti, dei complimenti a chi ha voluto fortemente questo evento, il dire Presidente, l'assessore Marco Vandondi, dei complimenti a Augusta Classico, questa associazione che negli anni è sempre cresciuta, ha sempre cercato di valorizzare le nostre eccellenze e fortunatamente nel nostro territorio, nel nostro carasco, sono andate. Ringraziare veramente Umberto che ha accettato di fare l'ambasciatore per questa piccola città. Arrivi da una città grande, però no, forse arrivi da Valdieri, per una piccolina e quindi anche Carasco poi ha fatto passi importanti e si è arrivato fino a Roma. Ma noi vogliamo definirci piccola, grande città, no? Non so se hai avuto occasione di vedere anche il sera, faremo un minimo di turista, noi ci definiamo una piccola e grande città, di peristoria, di art, di cultura e anche lì è un'astronomia di eccellenze. Ma l'astronomia è arte, è cultura, no? Tu probabilmente me lo insegni sicuramente. Quindi di eccellenze possiamo parlare di Baci Carasco, possiamo parlare del Chioccio, possiamo parlare di tante eccellenze dello stesso territorio che rastrova parte di 11 comuni del Barolo, quindi non ci manca.